Allora oggi anche partecipo a questa iniziativa e a questo incontro perché questi laboratori bibliosociali mi sono sembrati un gruppo, un raggruppamento, un'iniziativa, se volete anche un po' un'impresa e comunque un punto di riferimento e di aggregazione che può essere potenzialmente innovativo, significativamente innovativo per cercare di realizzare delle esperienze costruttive di interazione tra cittadini. E queste esperienze di interazione ci attrezzano reciprocamente a affrontare la complessità in cui siamo immersi. Vedete nella mia storia ho constato e ho constatato continuamente questo che col passare degli anni i problemi diventano sempre più complessi con tutti gli investimenti che sono stati fatti in campo sociale rispetto al welfare o ai vari tipi di welfare con cui abbiamo imparato a qualificarlo in questi anni. Le cose sono sempre più difficili e sempre più complessi quindi abbiamo bisogno di attrezzarci e attrezzarci cosa vuol dire dotarci di ciò che rende possibile agire e interagire entro uno stesso ambiente, entro gli stessi territori vitali con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Fare comunità che è il titolo di queste giornate di studio secondo me significa proprio questo cioè riuscire a interagire insieme attraverso questi elementi che voi avete messo molto bene e questo è un'evidenza nella giornata di evidenza nella giornata di ieri ascoltandosi e collaborando, ascoltandoci, ascoltandosi e collaborando tra noi. Però questo non è per niente automatico, non è per niente facile, non è per niente dato per scontato. Allora cerco di entrare con voi più direttamente in una riflessione su questo contesto in cui siamo collocati e su quelle che sono le iniziative che possiamo prendere per cercare di comprendere e di agire. Allora diciamo viviamo dei tempi difficili ecco questo diciamo la parola distanziamento che è stata messa nel titolo anche delle giornate di studio mette in risalto uno dei vincoli più forti, più significativi con cui la diffusione del virus ci ha costretto a fare i conti. ma questo non ci esime dal ricercare convivenze accettabili anche se abbiamo tutte queste difficoltà, anche se abbiamo tutti questi ostacoli, anche se continuamente ci vengono posti e imposti degli allontanamenti, questo non ci esime dal ricercare degli avvicinamenti. e questa parola che io uso, convivenza accettabile, mi sembra che renda più visibile anche concretamente che cosa significa fare comunità, perché non è una comunità ideale, astratta, generica così, ma significa riuscire a trovare nel vivere quotidiano, cioè entro uno stesso spazio, entro gli stessi tempi, la possibilità di tenere insieme differenze e disuguaglianze che diventano sempre più consistenti. abbiamo delle differenze, perché le differenze culturali non sono solo quelle tra noi e le persone che vengono dal Nord Africa, dai cosiddetti extracomunitari piuttosto che dai paesi dell'est o dalle differenze, sono anche differenze che esistono all'interno della nostra stessa società, tra diverse culture, tra diverse generazioni, tra diversi ambiti lavorativi, pensate al sociale sanitario, quali differenze oggi constatiamo, sono difficili da collegare e da integrare in un ambito in cui la medicina ha estrema necessità di essere socio sanitario e quindi di tenere insieme diverse culture e diverse differenze. Abbiamo delle disuguaglianze che il Covid stesso ci mette in luce come sempre più gravi e gravose e sempre più condizionanti la possibilità di vivere insieme. In un certo senso le differenti al minimo dovrebbero essere sopportate, ma al meglio dovrebbero essere valorizzate perché sono una ricchezza. Il fatto di non avere tutti le stesse idee ci dà sguardi multipli e quindi dovremmo approfittarne per comprendere meglio le cose. Allora vedete che questi ragionamenti diventano molto significativi in un momento in cui sembra che sia inevitabile stare lontani mentre abbiamo sempre più l'esigenza di convivere, cioè di vivere insieme. Questo vivere insieme è raccomandato da tutti, anche dal presidente Mattarella, ma quello che ciascuno di noi è importante che sappia e che faccia sapere anche gli altri è qualcosa che va costruito. Non è dato, non è fisso, non possiamo prenderlo come già fatto da alcuni. Non può essere imposto evidentemente, né con la forza, tantomeno col terrore. non va neanche imposto attraverso delle decisioni prese senza che si sappia perché vengono prese e come vengono prese. Ma questa trasparenza è possibile se ci abituiamo a pensare che queste convivenze vanno costruite con gli altri e che questo con comprende tutti e non solo alcuni. Anche quelli con cui abbiamo delle contraposizioni, anche quelli con cui abbiamo delle ostilità. Allora, il primo punto è che il convivere va ricercato. Il fare comunità, detto in altre parole, per poter convivere, per poter diventare comunità, è ineludibile impegnarci in una ricerca. Secondo elemento. Il Covid e tutto quello che comporta sotto questo punto di vista è un'opportunità perché in un certo senso ha scompaginato le carte. Da parte di molti, avete letto anche voi molti articoli, molti interventi eccetera, dicono adesso no, ma il Covid ha fatto emergere, e forse si chiama emergenza anche per quello, dei problemi che stavano un po' sotto, che erano sui fondali, no? E quindi erano sotterranei e alla superficie si poteva comunque andare avanti tranquillamente. Adesso questa emergenza ha fatto toccare più con mano queste difficoltà e quindi si tratta di utilizzare questa opportunità che siano venute in luce queste questioni per riuscire a rappresentarle, a vederle in modo più efficace e più produttivo. Quindi secondo elemento il Covid può essere un'opportunità. È un'opportunità che indirizza, che spinge, che orienta a, la parola è, cambiare. Vedete che molti dicono nulla sarà più come prima. Sì e no. Perché? Perché cambiare è difficile. Cambiare è molto difficile. Cambiare gli assetti sociali, cambiare anche il nostro modo di rappresentarci e di vivere i problemi. non so, io diciamo non conosco tanto bene le vostre vicende, ma penso che nella vostra stessa situazione avete un cambiamento significativo da sostenere che è quello da situazioni in cui le biblioteche, quelli che ci lavorano e quelli che interagiscono con le biblioteche le vedono come depositi, depositi di libri che vengono comprati, acquisiti, mantenuti, resi disponibili a alcuni lettori affezionati. passare da questa situazione a una situazione in cui la biblioteca può essere vista come croce via di diverse modalità di interagire e di comunicare con i saperi, con i saperi costituiti, con i saperi che si vanno, diciamo, costruendo e che vanno nascendo nella nostra società e con i diversi mezzi di comunicazione che li producono e li propongono, quindi con i video, quindi con le fotografie, quindi con le mostre, quindi con, diciamo, far interagire anche i bambini con gli adulti, far interagire diversi aree culturali, diciamo, croce via di culture, secondo me, croce via di gruppi sociali e di interazioni tra gruppi sociali e oggi questo mi sembra un elemento molto significativo molto significativo per vedere i problemi sociali perché i problemi sociali si vedono e si possono affrontare se si vedono in molti portatori di diversi sguardi. Guardate, dei problemi sociali così importanti come sono quelli dell'ambiente. se ne parla continuamente, ma le persone nel quotidiano non li vedono. Io vivo sul lago di Como, c'è tuttora un'edificazione selvaggia, c'è un inquinamento inimmaginabile, non si può fare il bagno nel lago di Como. Perché? Perché la gente questi problemi non li vede finché non li tocca personalmente, finché non è investito nella quotidianità non li vede. Allora il fatto di poter interagire nei micro contesti su alcuni problemi che ci toccano rende possibile vedere i problemi e quindi affrontarli. pensate a un altro problema che è la dispersione scolastica. Io ho avuto proprio questa esperienza sul campo, diciamo così, perché ci sono i numeri, 15%, 18%, anche in provincia di Trento, sono numeri incredibili. no? Ma le persone se ne accorgono soltanto se una famiglia dei genitori hanno un ragazzino che viene bocciato, bocciato, ribocciato, viene respinto. se diventa un best, bisogno educativo speciale di cui gli insegnanti non si occupano, se i ragazzini non vogliono più andare a scuola. allora questo sembra che sia il problema del singolo bambino della singola famiglia, ma è il problema più sociale della dispersione scolastica che la scuola non riesce ad affrontare e che la scuola si immagina di dover affrontare per conto proprio, dando la colpa alle famiglie o alla società, all'affrontumazione, al cambiamento generale, eccetera. mentre è un problema la dispersione scolastica, che secondo me va vista e affrontata insieme nei territori, con gli operatori sociali, con gli operatori culturali, con gli insegnanti, con gli amministratori locali, perché è un problema molto significativo per il futuro dei nostri figli, nipoti, per il futuro delle nuove generazioni. affrontare questi problemi insieme non è così condiviso, perché vedete ogni famiglia pensa di poterlo risolvere per conto suo, ogni insegnante al massimo si mette d'accordo con l'insegnante con cui va già d'accordo, per fare qualcosa nei confronti di qualche ragazzino che se lo merita, perché ci sono anche quelli che non se lo meritano e allora li lasciamo andare. Allora, terzo punto, il primo punto è il convivere va ricercato, il covid è un'opportunità, il convivere va ricercato attraverso dei cambiamenti e sono dei cambiamenti di visione dei problemi. C'è anche questa storia che si dice di Einstein, non so se anche voi l'avrete sentita dire, perché c'era dappertutto, anche se certi manifesti, artisti e muri, non mi ricordo più se era Arezzo o qualche altra città, in cui si diceva che le visioni con cui siamo arrivati ad avere certi problemi non possono essere quelli con cui cerchiamo di affrontarli e risolverli. Quindi abbiamo l'esigenza di un cambiamento di visione rispetto ai problemi. Come è possibile cambiare? E questo è il quarto punto. Cambiare richiede degli spostamenti, dell'attenuazione di attaccamenti per rendere possibili dei passaggi, dei transiti verso qualche cosa di diverso da quello a cui siamo abituati. Quindi si tratta di ricollocarsi. Per ciascuno di noi si tratta di ricollocarsi. A partire da dove si è. Perché dove si è? Crediamo di conoscerlo, ma non lo conosciamo. Giuseppe Pontigia, che sarà qualcuno di cui avete sentito parlare, perché è anche qui uno scrittore molto interessante, importante di questo nostro Nord Italia, diceva quello che conosciamo è quello che conosciamo meno. Perché crediamo di sapere, ma non sappiamo nella realtà. Quindi partire da quello che si sa per riconoscerlo, per conoscerlo con uno sguardo un po' diverso da quello a cui siamo abituati. E allora da qui, altro passo, allestire delle condizioni per poter leggere la realtà. Sul leggere ritornerò anche dopo, ma leggere significa vedere la realtà non solo come appare. Carlo Rovelli, questo astrofisico, divulgatore, sette lezioni di fisica, il libretto di Adelfi, quello conoscerete. Carlo Rovelli ci dice, perfino nella natura, nella realtà non è quello che appare. E quindi abbiamo la necessità di dotarci di sguardi perspicaci, che vanno al di là di quello che si vede immediatamente. Quello che si vede immediatamente è un lato, ma nella realtà ci sono sempre altri lati. E quello che andiamo a vedere è quello che accade intorno a noi e in noi. Perché nel sociale, nella realtà sociale, l'osservatore fa parte del campo, effetto Heisenberg. E quindi noi siamo anche noi oggetti di osservazione. E' importante che ci osserviamo mentre osserviamo, per rendere possibili visioni più attendibili della realtà in cui ci muoviamo. E quindi abbiamo la necessità di allestire dei processi di conoscenza dinamici in cui si collega continuamente conoscenza e azione. E dall'azione, arricchimento di conoscenza, che ci permette di agire per conoscere meglio. Conoscere meglio vuol dire scoprire. E allora è importante un ultimo passaggio in questi processi con cui si affrontano i cambiamenti. Anche dare visibilità a quello che via via riusciamo a scoprire e a cambiare. Perché questa visibilità ci rassicura. Se siamo arrivati lì vuol dire che qualcosa riusciamo a mettere in campo. E il valore del lavoro che fanno Francesco e Massimiliano con gli articoli sulle animazioni sociali. E' anche quello di rendere visibile e di dire, vedete, con i laboratori bibliosociali arriviamo a questi esiti. che sono sempre incompleti, sono sempre insacuri. Ma questo ci consente di dire, fin qui ce l'abbiamo fatta, possiamo fare un altro passaggio. Questo è un po' il quadro di riferimento che volevo proporvi per affrontare appunto questa questione del come possiamo addentrarci nel fare comunità ai tempi del distanziamento. Grazie. Grazie.